Ciao Fiorellini e Fiorelline, vi voglio far vedere cosa faccio il pomeriggio. Tutti i pomeriggi da quando sto pietà con la dietologa. Vado a camminare sulla petona. Sto camminando sulla petona. Ok, però diventava così. Faccio 45 minuti di camminata a questi giorni. E vi voglio far vedere cosa faccio il pomeriggio perché non avete visto più i video che vado a Civita. Ma un giorno lo faremo e andremo giù. Io andrò a camminare e voi mi vederete a far coprire come sempre. Però il pomeriggio al solito sto qua a camminare sull'acqua. pure se state dentro abboppiati tema e acqua. E vabbè, faccio 45 minuti al giorno di camminata sopra la petona. e niente. Questo è il dunque. Faccio questo a pomeriggio. Vi voglio far vedere perché una volta, non ricordo che video era, e poi mi ha detto, ma non c'era più a Civita che ci porti per noi, mi piaceva tanto. Un giorno lo faccio. Ci andiamo e facciamo il video. Ah, pensavo scattava. Ehm, però, pure se non vado a Civita, non vi porto perché non mi ha a Civita. E sto qua tutti i pomeriggi e cammino sul mio tappeto. E' caldissimo adesso, però comunque è pomeriggio. Prima dello spuntino vado a camminare un po', poi facciamo lo spuntino sul video di mezzogiorno. però l'ho fatto tutti i giorni così. Vabbè. Comunque, adesso vi lascio perché voglio far vedere cosa facevo che vado a camminare. Non vado a Civita, ma cammino sempre sul mio tappeto qua, la pillura. E vabbè. Adesso vi lascio. Ciao. Alle diciotto. Non ve lo scordate. Ciao, perli.